La vittoria contro Nocetto è stata molto importante per noi perché ci siamo portati a casa 5 punti necessari per proseguire il nostro cammino verso il nostro obiettivo. Abbiamo giocato molto bene, ci siamo presi una rivincita dalla partita dell'andata, li abbiamo dominati in misca chiusa per 80 minuti e a mio parere se vinci i palloni lì davanti è molto più facile giocare poi fuori con i tre quarti. Della partita contro Petrarca stiamo preparando la settimana, ci stiamo allenando molto bene, abbiamo fatto ieri un lavoro collettivo con la squadra, dei movimenti e secondo me è importante andare a Padova e prendere 5 punti perché sono quelli che ci servono e li conosciamo perché abbiamo già avuto l'occasione di incontrarli precedentemente, sappiamo che è una squadra giovane quindi molto veloce che gioca fuori a largo con i tre quarti e sappiamo che dobbiamo metterli sotto fisicamente e riusciremo così a portare a casa i 5 punti. Questa partita la sento in modo particolare perché appunto per me è come un derby, io sono cresciuto nelle loro giovanili, conosco la maggior parte dei giocatori che compongono la loro squadra e per me è importante portarla a casa diciamo anche per un orgoglio personale.